Ben trovati da Andrea Cartotto. E se vi dicessi che Telegram è in realtà un formidabile servizio di archiviazione cloud con spazio di archiviazione senza limiti? Dico questo perché molti tra noi considerano magari Telegram solo una applicazione di messaggistica istantanea, probabilmente più sicura ecco, ma alternativa a WhatsApp. Il probabilmente in realtà è ironico perché rispetto a WhatsApp, Telegram, sin dagli albori, quindi Telegram è nato nel 2013 in Russia, ha garantito un protocollo di maggiore sicurezza per messaggi e dati che transitano al suo interno. Ecco, oggi ve lo propongo come ottima risorsa anche proprio per docenti e discenti per poter trasferire da avere sempre con sé siti internet di riferimento da consultare o documenti. Consiglio, per il personal computer suggerisco di installare Telegram, dunque di andare sul sito di riferimento desktop.telegram.org scaricando con grande facilità l'applicazione. Ricordo che Telegram al primo avvio chiede il numero di telefono, ma in realtà se poi la uso per questo scopo non diventa necessariamente un mezzo per scambiarsi i messaggi. Allora, come vedete ho aperto nel frattempo, tramite il mio browser, il sito, quindi la home page di Rai Scuola, rai-scuola.rai.it. Lezioni di filosofia, interessante, un click. Bene, accedo alla mia sezione, al Berkamus, narrazioni filosofiche della peste. Bene, lo leggo dopo. Un click in alto nella barra degli indirizzi. Seleziono l'URL, il mio indirizzo esatto, tasto destro con il mio mouse e tasto sinistro su copia. Guardate ora com'è facile posizionarlo nel cloud di Telegram. Chiudo tutto ciò che sia browser. A questo punto vado ad avviare la mia icona di Telegram e guardate, se non fosse già presente, vado a digitare nella stringa di ricerca in alto, messaggi salvati. Un click. Ecco, questa è la chiave. Messaggi salvati è una sorta di interlocutore automatico a cui in realtà io spedisco le cose che voglio conservare e rivedere. Nel caso di un indirizzo web è sufficiente fare click dove vedete scrivi un messaggio con il tasto destro, tasto sinistro, poi su incolla, un click sulla freccia blu ed ho trasferito al mio cloud questo URL da rileggere con tutta calma. Pensate che bello, in punta di smartphone, poter riprendere all'istante una cosa che ho trasferito e ora ho parcheggiato dal computer, ma nello stesso istante la ho con me da smartphone. La graffetta che vedete qui in basso serve invece perché io posso caricare, sempre nel cloud di Telegram, un qualsiasi documento dal mio computer, una immagine, un filmato, tanto non ho spazio limite di archiviazione, una scheda in PDF, quel che desidero. A questo punto chiudo Telegram da PC, recupero qui alle mie spalle il mio smartphone e osservate la semplicità. Io in realtà richiamo la icona di Telegram, lo metto a beneficio di camera, ecco la vedete al centro dello schermo, tocco, vado in elenco a cercare messaggi salvati e rimetto nuovamente a beneficio di schermo, mi avvicino, riconoscerete la figura corrispondente alla pagina di Rai Scuola con Albert Camus. Io con un tocco sul mio telefono ho la possibilità di leggere e di avere con me, mostro sempre a beneficio di schermo, ora qui c'è il solito consenso alla privacy, lo vado a rimuovere, ecco qui la pagina di Rai Scuola che avevo ricercato e trovato sul computer e ora comodamente leggo sul mio telefono, ma posso poi ritrovare sul mio tablet dove io desideri. Un uso di Telegram certamente che potevamo non aspettarci e che ho avuto il piacere di condividere con voi. Un saluto ancora da Andrea Cartotto e da altri miei videocorsi e materiali didattici sempre su youtube.com slash trainerandrea